5 e 1 Ci risulta che gli uomini di Abragadir si stanno radunando in un ex complesso alberghiero Nella griglia X-Ray 1 La sua unità dovrà conquistare la più piccola delle defandose Mentre le sopra e l'assalto si occuperanno della struttura centrale Completato il suo obiettivo primario raggiungerai la struttura principale per supportare l'assalto Ci saranno molti civili nell'area e dovrai fare di posto per evitare danni collaterali Ricevuto comando 5 e 1 quadri sul bersaglio Dancia canale e dritta di posto 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 Rizzavuto! Perché non li stordiamo? Ottimo idea! Segui, sami! Sono con te! E allo superiore bonificato! Pronti all'assalto! Granata bagliante, fuori! Via, via, via! Via, via, via! Via, via, via! Come se dobbiamo raggiungere ancora l'assalto? 4-1! 5-1 attraversa il cortile per raggiungere la vostra postazione! Qual è la situazione? Passo! 5-1! Abbiamo catturato i bersagli prioritari! Ricevuto! 5-1! Qui il comando! Ora devi eliminare le postazioni viste davanti all'edificio! Non dobbiamo assolutamente prelevare i 4-1! Ricevuto, comando! 5-1! 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 6-1! Pronti all'assalto! Guardate dall'altra parte! Guardate dall'altra parte! 6-1! 6-1! 5-1! 5-1! 6-1! 6-1! 6-1! 7-1! 6-1! Vieni libera! Vieni libera! Ah! 4-1, l'edificio B è stato bonificato. Ci avviciniamo alla vostra posizione. Sono tutti al sicuro? Gli ustaci sono al sicuro. 5-1, abbiamo catturato i bersagli prioritari. La tua squadra deve raggiungere una posizione elevata per eliminare i cecchini mentre procediamo all'evacuazione. D'accordo, 4-1. 5-1 ti farà sapere quando saremo in posizione sul tetto. 5-1, qui testa del convoglio. Stiamo arrivando. Raggiungeremo il punto di evacuazione tra due minuti. Ricevuto. 4-1, siamo in posizione. Abbiamo più bersagli negli edifici circostanti. Sarà facile. Ricciamone 5-1, stiamo uscendo. Insevuto 4-1, copriremo la vostra operazione. Basta. Ci spada un passo dagli edifici sull'oltre area della strada. In testa del convoglio, abbiamo avvistato il complesso. In testa del convoglio, abbiamo avvistato il complesso. 4-1, vedo il convoglio che si avvicina. Ricevuto 5-1, ottima notizia. 5-1, l'evacuazione procede. Grazie per il buco di copertura. Dovere 4-1. 5-1, mi comando. Ottimo lavoro. Mettate come siete. Stiamo mandando un'elicottero a rendervi. Ricevuto, comando. Corso. 5-1, siamo arrivati. 4-1, in bersaglio di ritali, stanno saranno a volto. Il'elicottero è arrivato, scegliamo. Concevuto a testa del convoglio, ci vediamo alla base. Sono venuti a prenderci, andiamo. Attivo lavoro 5-1, ci vediamo alla base. Concevuto, comando. Questa è una buona Riccia. Questa è la mia intervenzione. Questa è la mia mezza. Grazie a tutti